bene eccoci qua e prosegue la nostra indagine nel tff cioè il torino film festival e oggi ci occupiamo di una categoria in particolare quella dei doc italiani ultimamente noi ci stiamo parecchio parecchio incespicando nel cinema italiano e oggi faremo un film per uno una piccola presentazione e dove interpelleremo maggiormente il nostro caro paolo torino che in piena sintonia col suo cognome è l'unico salottiero a trovarsi a torino in questo momento durante il festival quindi torino al quadrato esatto so se l'avete detta anche altre puntate precedenti ma comunque la ripetiamo in ogni caso quindi sezione documentari italiani e direi che partiamo da marco mi sa che marco voleva partire vero però se vuoi parto io dimmi tu no no facciamo partire ale io io intervengo e dico che dobbiamo che seguite in talotto su telegram e su telegram guardatevi anche gli interventi di paolo che penso saranno già siano già usciti perché noi stiamo registrando differita perché insomma possiamo seguire un pochino di festival da vicino tramite paolo e in generale seguiteci su telegram che è una cosa carina e io farei iniziare sugli altri social instagram tutti i link in descrizione non siamo snob esatto io farei ale dario paolo io così va bene perfetto a botta e allora la parola ad ale vu allora io inizierei a parlare del film di luca ferri che è anche quello che apre che ha aperto la rassegna dei doc italiani del torino film festival che è vita terrena di amleto marco belelli in arte il divino telma ed è un documentario che è molto strutturato in maniera molto precisa da luca ferri ovvero che lui e il divino telma hanno durante il 2020 al 2021 hanno organizzato degli incontri settimanali in cui fare delle conversazioni tra loro su temi vari temi che poi man mano che le conversazioni andavano avanti si sono anche cioè venivano anche diciamo suggeriti da luca ferri al divino telma come ad esempio anche parlano anche di film e di libri che luca ferri propone al divino telma come argomenti di discussione e di riflessione su sulla vita e il film io l'ho trovato molto interessante in primis perché è uno di è un film che è stato realizzato durante il periodo del covid della pandemia e questo è evidente in particolare per il modo con cui è stato ripreso perché alla fine si tratta sempre dell'inquadratura di della videocamera della webcam del divino telma sul divino telma che che parla che parla che parla in camera che parla al computer e altri materiali che lui ha prodotto durante questo periodo di che è andato avanti per 52 settimane ed è interessante vedere come anche si sono un po sono riusciti a a risolvere questo problema del del della pandemia nel senso che sono partendo da un limite perché il film come ha raccontato il regista durante la prima della proiezione e dopo anche nel nella sessione di domande risposte ha raccontato anche che il film inizialmente non doveva essere un film in videochiamata ma è diventato quello che è diventato a causa appunto della pandemia ed è in realtà diventato anche un punto di forza del film perché a un certo punto man mano che le videochiamate vanno avanti nel film sia proprio la sensazione di di star guardando un quasi un diario del divino telma non più non più semplici non delle semplici conversazioni o o anche momenti in cui lui ascolta dei 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 altri personaggi che hanno avuto a che fare con lui durante la sua vita che sono sia studi e professori di università suoi collaboratori ma anche proprio delle momenti in cui lui si si blocca davanti alla telecamera mostra il il suo il suo dietro le quinte parla anche della della sua vita dei suoi genitori di quello che ha di genova della città di genova attraverso anche dei dei video che ha che ha mandato al regista e regista inserisce all'interno all'interno del film in cui appunto il divino telma con la sua il suo modo forbito di parlare che che è molto particolare con una con un ritmo tutto suo che però è il film fa diventare anche in un certo modo in un certo modo magnetico diventa quasi ti ammaglia e diventa anche interessante nonostante quello che magari lui dica non sia tu come spettatore non lo non lo condivida perché però è comunque ne viene fuori secondo me un ritratto molto molto interessante di un di un personaggio che io sinceramente conoscevo poco conoscevo per quello che che se ne può conoscere attraverso che ne so i le voci i rumor che ha partecipato all'isola all'isola dei famosi queste diciamo le le tabloide ecco però ma qua se ne ha una secondo me un una visione nuova e interessante del personaggio dicevi solo quindi lui che è quindi solo lui che parla in camera principalmente sì si vede soltanto lui a schermo a volte però ci sono dei momenti in cui compaiono dei degli audio di luca ferri che comunica con lui perché magari hanno avuto dei problemi tecnici o comunque lui suggerisce al divino telma di di guardare un film o di guardare o di leggere un libro perché mi ricorda un po' quello pierino che era il ritratto di di cinefilo incallito che fece ferri qualche anno fa era tutto di pierino che parlava in questo personaggio e parlava in camera e si segnava i film che vedeva sulla vecchia versione di letterbox cioè le belle vecchie agende a mano da scrivere e mi ricorda un pochino quello la vecchia letterbox ha la vecchia maniera ha la vecchia maniera comunque ok bene allora innanzitutto il film si chiama cinque uomini oddio in realtà ci vabbè sì ci sono vari varie vari titoli però il titolo è cinque uomini nel senso che ci sono varie c'è anche in francese insomma trovi articoli in varie lingue e in realtà il film è in francese perché terlizzi che per chi non lo conoscesse è un un regista che si muove tra vari modi di intendere l'audiovisivo una delle cose che più mi piace più consono alla mia ai miei gusti è il fatto che terlizzi appunto faccia documentario però faccia anche video arte ha fatto anche fotografia performance eccetera eccetera se non sbaglio però non l'ho visto lui ha anche esordito nel lungometraggio di fiction però non l'ho visto sì ha fatto dei sì però non l'ho visto e la benedizione degli animali un corto molto interessante insomma fa sempre dei lavori in cui in qualche maniera quello che volevo dire è che sperimenta con le immagini o quantomeno o quantomeno si pone sempre al limite del passaggio tra una forma dell'immagine e un'altra e perché dico questo perché sen sen home è un è un film che non è diretto personalmente da lui cioè è materiale d'archivio e materiale d'archivio di un di un regista teatrale che si chiama e attore che si chiama antonio buil che ovviamente io avrò pronunciato male ed è nient'altro che il backstage di una tournée teatrale e quindi esattamente come questo interessante siamo ovviamente nel 2022 come il film di cui appena parlato ale e un altro di cui io parlerò dopo che sono ambientati in era covid quindi in un passato prossimo questo di terlizzi è abbastanza passato remoto perché in realtà i filmati sono di più di dieci anni fa o dieci anni fa circa a seconda di del sito in cui leggete la le notizie e e quindi quello che è interessante è il fatto che terlizzi per l'ennesima volta abbia lavorato su su sul modo in cui in qualche maniera un'immagine si si presenta a noi e abbia lavorato su un diario perché non è nient'altro che il diario di scena anzi il diario di fuori scena di questi attori registi che stanno lavorando a una tournée e allora invece il l'altro c'è uno dei film in concorso di questo questa sezione è di mimo cuticchio il film sulle vie dell'inferno allora in realtà auto modo di vedere il film sulle vie dell'interno però prima farò una breve un breve scorso se secondo me importante su primo cuticchio e spero mi aiuti anche mi aiuti anche marco perché si parla di elementi tipici della tradizione siciliana credo addirittura palermitana quindi più chi più di un palermitano possa darmi una mano perché in realtà mimo cuticchio nasce come come attore cioè sordisce con cento giorni a palermo fa a una parte in nel padrino parte tre di francis fordocoppola però lui in realtà appartiene a questa grandissima tradizione dei contisti che credo sia di credo cioè credo siano dei cantastorie dei cantastorie siciliani o no marco cioè sto dicendo sì sì non sono esperto onestamente pur essendo palermitano però però sì chiaro è una scuola di cantastorie ed è eredita diciamo questa tradizione da questa tradizione da da suo padre ovvero giacomo cuticchio dei pupi i pupi i pupi siciliani sono di queste marionette questo spettacolo di marionette chiedo sempre conferma a marco ma spesso sull'orlando furioso spesso l'argomento è quello cioè si parlano sono frammenti dell'orlando furioso e o comunque del personaggio di orlando ok e quindi da questo da questo qui mi riallaccio al film sulle vie dell'inferno sulle vie nanteschi e lo fa mettendo in scena questo spettacolo dei pupi con una voce narrante che è propria della tradizione dei contisti siciliani quindi una messa in scena tu cur di questo lato di tradizione di questa tradizione siciliana alla fotografia tra l'altro del film lavora cipri a quanto pare ha il monopolio sulle opere sulle opere siciliane perché non lo dico non lo diciamo a maresco e in realtà il film ha molte suggestioni che mi portano mi portano mi portano mi hanno portato lontanamente al film di di piavoli nostros con i dovuti paragoni perché c'è questa sorta di ritorno però il ritorno in realtà dove sta c'è un ritorno alle origini ritorno a questa cultura questa cultura forte questo folklore questo folklore siciliano che possiamo vedere man mano all'interno all'interno di questo film questo spettacolo di marionette che che mette in scena alcuni canti della divina alcuni canti della divina commedia e il film in realtà è questo ed è figlio del percorso del percorso artistico di mimo cuticchio è molto interessante perché oltre ad essere una mese scena di questi canti quindi una rimescolazione forse anche una sorta di inglobazione della divina commedia e quindi di rifacimento in salsa in salsa siciliana forse potrei dirlo meglio di così però spero mi sia fatto capire è anche una società anche uno sguardo su un lato di cultura siciliana che personalmente ignoravo e quindi risulta essere molto interesse risulta essere molto interessante anche per questo poi chiaramente per quanto riguarda l'opera di mio cuticchio è necessario vedere gli spettacoli teatrali che per ovvi motivi non ho potuto vedere perché sono datati tipo 1994 quindi prima ancora della mia data di nascita e credo prima ancora della data di nascita di molte persone qui dentro e però però se avete l'occasione se avete l'occasione di vederlo se sarà proiettato dopo trini in alcuni festival o in alcune rassegne anche locali vedetelo perché in realtà è un film molto è un film molto interessante perché c'è questa duplice riscoperta l'una sulla sulla divina commedia in salsa siciliana e due su questo segmento di cultura di cultura siciliana che in realtà è estremamente estremamente interessato ora passo la parola ma e come è girato cioè è la camera è fissa sul sul teatro oppure tipo non lo so c'è qualcosa di più articolato sul sul diciamo sul sul palco dove di solito appunto vengono fatti questi spettacoli oppure c'è qualcosa di più articolato no in realtà in realtà a livello registro sì 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 perdonatemi per non per non aver esplicato più dettagli su questa cosa in realtà a livello registro che il film è molto è molto semplice cioè per lo più ci sono delle inquadrature fisse o delle si alternano inquadrature fisse e carrellate su questa sorta di sipario e tante questa sorta di scenografia teatrale che danno l'impressione di aspetti di stare lì ad ad osservare quello che è uno spettacolo letterale a tutti gli effetti ora non so precisamente se questo rientra nei canoni dello spettacolo dei pupi siciliani io avevo soltanto la curiosità se era uno spettacolo filmato no 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 non credo sia stato uno spettacolo filmato cioè dà l'impressione di essere stato fatto proprio per il cinema perché poi c'è l'inquadratura perché poi c'è l'inquadratura c'è l'inquadratura finale che riprende la tradizione teatrale c'è quello lì di aprire il sipario con qui questa stilata di pupi siciliani che guardano che guardano in macchina a cercare l'inchino cioè a cercare l'applauso ad accogliere l'ipotetico applauso dei spettatori coloro che fanno questo ipotetico inchino e quindi c'è questa sorta anche di svelamento della mano del regista sul film sul film stesso quindi in realtà è molto molto interessante c'è al di là dei gusti che possa piacere o meno un film molto molto interessante vedetelo se avete l'opportunità di di vederlo ora passo la parola a marco per l'altro film sì io parlo di non parlo più di cecile kindria e vittorio moroni titolo francese ma in realtà regista italiano è appunto nella sezione docchi italiani vittorio moroni è un regista che potremmo dire specializzato nel fenomeno dell'immigrazione sulle indagini sul fenomeno dell'immigrazione e qui diciamo per assonanza a quanto pare prende un soggetto analogo ma diverso perché parla di degli algerini che sono sono trapiantati in francia durante appunto la guerra di algeria e si sono sono stati diciamo chiusi in dei ghetti o in delle comunità isolate in cui di fatto veniva fatto loro quello che era sostanzialmente un'operazione di quasi se si parla di omicidi si parla di violenze si parla di tantissimi trattamenti fatti ai danni di queste persone che erano comunque le persone che avevano scelto consapevolmente di spostarsi all'algeria e in francia e diversamente appunto da tanti altri algerini che avevano scelto il rimanere in algeria e quindi come dire è l'indagine di una di una di una giovane che indaga sul sull'evento e quindi su anche sulla storia dei suoi genitori e va sui luoghi di queste di queste ex comunità di algerini trapiantati in francia e insomma è intrigante che si torni a parlare di questo argomento che è assolutamente poco di moda in linea di massima in italia ma anche meno ma diciamo abbiamo qualche storico importante regista italiano che si è occupato dell'argomento gillo fonte corvo ovviamente però in generale è molto chiaramente un argomento più sentito in francia è interessante che un argomento del genere sia fra i dotti italiani e il se non mi sbaglio vittorio moroni è anche il lo sceneggiatore di una serie di film che hanno a che fare nella nella storia del cinema italiano recente con il fenomeno dell'immigrazione esatto è sceneggiato poi terraferma di creale se poi credo che sia più una questione di legame con creale se perché ha sceneggiato anche l'immensità che l'ultimo film che abbiamo visto a venezia che non ha a che fare con l'immigrazione evidentemente però è interessante questo questo interesse sistematico per per un tema e tutto sommato non mi vengono in mente troppi esempi in italia di registi che si interessano un singolo tema e cercano di affrontarlo da tutte le parti perché in realtà questo qui di torino è un documentario terraferma e finzione e quindi anche in questo caso trasversale all'argomento però l'argomento sempre quello è questo è quanto passerei invece a dove vanno i vecchi dei che il mondo ignora di giuseppe spina e giulio amazzone che sono anche giuseppe spina è fondatore anche di nomadica che è una casa di produzione di cinema sperimentale ed artista e questo film è si inserisce in effetti nel diciamo che lo definirei effettivamente un documentario sperimentale perché spine mazzone propongono uno sguardo del del vulcano dell'etna nuovo nuovo nel senso che utilizzano nel film una serie di immagini prodotte da strumenti tecnologicamente super avanzati perché partono da utilizzano immagini sia di satellitari a infrarossi o immagini riprese al microscopio di rocce polveri e utilizzando questo cioè da queste immagini loro giocano sperimentano con i riflessi le di luce le ombre il le cavità delle rocce vulcaniche e sia anche non solo attraverso semplicemente le immagini e basta ma anche attraverso il montaggio con sequenze anche molto direi quasi da fin di fantascienza e con questo film e non è non mi sembra nemmeno un caso che scelgano di proporre questa visione del vulcano di un vulcano cioè questa visione fantascientifica dell'etna quest'anno quando in concomitanza anche con l'uscita del sia del film di saradosa sui vulcanology craft e sia sul film di erzog anche questo prese che viene verrà presentato al torino film festival sempre che su sul materiale dei craft e e che erzog aveva già utilizzato nel suo film into the inferno e dove anche lì c'era una visione un po un utilizzo delle immagini delle eruzioni vulcaniche o in generale delle dei paesaggi vulcanici con un piglio fantascientifico anche utilizzando suoni che siano che sono sia in presa diretta e sia suoni diciamo convertiti partendo da rilevazioni dell'attività sismica attorno a attorno all'etna e il film di fatto è questo cioè attraverso queste immagini inedite loro comunque cercano di alimentare l'alone di mistero e di mitico che che circonda da sempre il letna che è uno anche dei vulcani che più osservati al mondo in assoluto allora mi sto accorgendo mi sto accorgendo adesso che i film che mi sono stati assegnati sono di autori pugliesi quindi c'è chiaramente del razzismo latente perché stiamo assolutamente non latente stiamo parlando del collettivo di registi santa belba che è fondata da un regista e documentalista pugliese cioè savero cappiello insieme a niccolo natali henry albert gianvito cofano e nicola lorenzin tra l'altro in un'intervista a fabrique du cinema cappiello dice che hanno fondato il collettivo perché in quel periodo vivevano tutti o quasi tutti a milano per evitare di trovare il loro lavoro alienante cosa facevano hanno pensato di così unire le forze così da spezzettare il lavoro per fare un film e comunque sono tutti i registi cappiello in particolare che hanno già dei lavori alle spalle che io personalmente non ho visto però come collettivo cioè come santa belva da quanto so io questo è il loro primo film quello del tff e che corpo dei giorni allora corpo dei giorni ha una caratteristica molto molto singolare che è quella di essere in teoria è semplicemente un film ambientato in un casale credo toscano non è specificato da nessuna parte ma in ogni caso in questo casale tra i vari personaggi che loro dicono di aver intervistato il la centralità della scena poi la prende mario tutti quindi è un film su mario tutti che è un terrorista un è stato uno dei fondatori credo del fronte nazionale rivoluzionario che era un movimento di terroristi di estrema destra che veniva o quantomeno era tollerato dall msi e che è condannato a degli ergastoli però wikipedia docet insomma in realtà è in un regime di semi libertà e quindi appunto hanno potuto farci farci un film sopra e chiaramente insomma questa questa esperienza da quello che si legge in giro è stata abbastanza sconcertante per tutti loro perché appunto mario tutti non è un terrorista pentito è un terrorista di estremissima destra credo abbia ucciso tre o quattro persone però doveva andare a ricontrollare comunque si è preso due ergastoli quindi almeno due persone le ha uccise è un è un terrorista che non è pentito appunto è ancora fermamente convinto delle sue idee a una certa età dovrebbe avere una settantina da anni se non di più e quindi chiaramente da da essere una una semplice intervista poi tutti loro hanno messo il mario tutti al centro del del documentario che quindi credo sia una specie di film intervista o qualcosa del genere e e quindi hanno vissuto un'esperienza di come dire di confronto scontro con qualcuno che non si muove dalle sue posizioni quindi chiaramente il film non può essere un film di redenzione o di o di rivisitazione del passato mettiamola così sarà sicuramente un film in cui non in cui si si prende coscienza della diversità della 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 estranetà di un corpo come quello basso anche sul titolo di un corpo come quello di caterpillar che era il il nome che usava tutti da da terrorista e peraltro scopro adesso che tutti è un non è nuovo al cinema recitato in un film e anche partecipato a un altro documentario di due anni fa che a questo punto vorrei vedere su maurizio morelli di umberto baccolo che un documentario appunto su morelli che un un grande teorico dell'estrema destra italiana e l'altro film di cui vi parlo è che ho avuto modo di vedere altri film festival e foga dei passi di katia viscoiosi e francis magneno credo che la pronuncia sia questa ma credo proprio di sì essendo francese e allora in realtà c'è qualcosa da dire su questi due su questi due registi e sono in realtà dei registi che hanno modo di intendere un cinema ben chiaro cioè il loro cinema è un cinema che si fa di astrazione del corpo in che senso nel senso che c'è una sorta di volontà di mettere il corpo all'interno di questi luoghi all'interno di queste immagini e attraverso la camera il movimento dei corpi stessi sia una sorta di astrazione di perdizione all'interno di questo spazio fino ad un certo fino ad un certo punto e questo è il punto focale del film presentato a torino vero foga dei passi che un film che si ambienta durante il primo ferocissimo lockdown comincia a lione poi il film si atterna tra lione e roma quindi tra francia e italia e si costruisce su questi due opposti ovvero sui luoghi chiusi chiusissimi su queste gabbie di cemento su questi moloch di cemento a volte i due registi non risparmiano nemmeno l'inquadratura su questo plesso di condomini su questi questi ammassi di ferro di ferro e cemento in contraddizione con questi corpi poi minuscoli dei cittadini e degli umani rinchiusi all'interno di essi e quindi si ha modo di costruire un film su degli opposti ci sono tante ci sono tante tante immagini dove vedono in scena i due registi che però non parlano ma lasciano parlare alla voce alla voce narrante quindi c'è un altro opposto ma in realtà il film è interessante perché si costruisce sempre su questo dualismo quindi su questa presenza che è prima corporea poi incorporea su questa voce che è acusmatica e poi non è più acusmatica sul verde della natura quando in realtà le restrizioni si facevano meno stringenti e si poteva uscire all'aperto e la natura claustrofobica dell'ambiente quotidiano della casa e quindi in realtà è un film che si basa innanzitutto su dei concetti su dei concetti che in realtà ritrovano sia il titolo del primo film sia la presenza di uno dei film precedenti ovvero apolidi perché innanzitutto il film si basa su questo concetto di essere apolidi ovvero ormai di sentirsi rappresentati in una realtà che loro non possono più vivere e che non riescono più a vivere tra l'altro frase credo di Fitzgerald sì perché viene anche citato nel film e nel documentario ma in alcuni frangenti vengono proiettati dei spezzoni su dei film precedenti quindi apolidi, quindi Resurrection Plan che tra l'altro sono dei film che mi sembra che lo stesso Marco ne abbia scritto per lo specchio ma sono film, ci sono dentro il film? sì sì nel senso che hanno preso i film vecchi e li hanno messi dentro ah ok, ci sono delle proiezioni proprio di alcuni frammenti su delle pareti di questa città mi sembra, non vorrei sbagliare ma mi sembra proprio nel segmento francese cioè in una delle prime battute allora io mi ricordo Resurrection Plant apolidi sono stati proiettati al laterale film festival che è dove li ho visti io uno del 2020 e uno del 2021 e mi pare che la cosa delle proiezioni fosse Napolidi forse comunque c'era il discorso che il primo era durante il lockdown quindi c'era questo discorso della pianta in busta che loro mettono sul vaso mi pare e poi il secondo invece era di loro non mi ricordo dove era ambientato forse a Roma comunque parlavano della teoria delle giunte di Pasolini e dicevano di vivere come se fossero dentro un montaggio cinematografico quindi c'erano queste scelte ok e quindi ci sono questi due film dentro yes ho capito e quindi in realtà questa questa trovata che è una trovata un po' autocelebrativa che cozza con dei percorsi che film sul quale film fiorisce anche quasi in modo naturale su alcuni spunti figurativi e quant'altro secondo me vanno a cozzare un po' con questa scelta a mio avviso un po' autocelebrativa però spersonalizzo quello che sto dicendo mi limito a presentare il film perché al di là del fatto che possa piacere o non possa piacere è indubbiamente uno dei film più interessanti della sezione perché ha un modo preciso e puntuale di pensare le immagini quindi c'è questo 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 modo ben strutturato di capire di pensare di pensare il cinema e quindi di produrlo e che poi possa essere autocelebrativo o meno quello poi risulta essere anche una questione soggettiva che possa piacere o non piacere poi in realtà cioè credo che questa qui sia sia sicuramente uno degli esperimenti più interessanti della sezione io ricordo che in Apolidi la sensazione era ma anche dal Resurrection Plant che ci fosse un pochino di quei discorsi che diciamo in maniera un pochino semplicistica potremmo dire poesia del semplice c'erano queste riprese piccole fatte in luoghi quotidiani super Apolidi era un po' che articolato perché era all'aperto mi pare che era a Roma e mi ricordo che mi aveva ricordato un pochino Godard ma anche Strobouillet c'erano scritte sullo schermo c'erano loro che leggevano leggevano passi di romanzi nella natura c'erano cose un po' di questo tipo però mi ricordo un po' che c'era un certo arroccarsi cioè in entrambi i film in realtà loro un po' si arroccano rispetto al mondo ci si sentono ma anche in questo quindi in tutto in tutto in fogo dei passi perché c'è è vero che non c'è questo riconoscimento non si capiva era un pochino ambiguo quanto si ponessero critici rispetto a questo mondo che non conoscevano c'era un pochino di di questo distacco ma anche ma anche in questo film cioè in realtà cioè si ha l'impressione che loro si riconoscano in un mondo che non riconoscono però allo stesso tempo cioè si percepisce che c'è anche una volontà di non voler conoscere questo mondo quindi c'è una sorta di arroccarsi nelle proprie nelle proprie convinzioni nei propri luoghi proprio fisici e quindi c'è poca apertura in realtà verso questo tipo verso verso questo nuovo mondo che può essere in realtà un mondo post-covid o pre-covid dico post-covid perché poi il film si ambienta nel covid e viene proiettato qui nel post-covid però in realtà si evince anche da questo film cioè anche da Foga dei Passi è interessante che si parli di arroccamento di persone intellettuali da quel che ricordo durante il covid che ha spinto le persone a isolarsi quindi mi incuriosisce un pochino nel bene o nel male perché comunque il covid invita a isolarsi e poi ci si isola anche intellettualmente chissà vabbè comunque io passo al mio film che è Svegliami a mezzanotte di Francesco Patierno che parla di una della storia raccontata in prima persona di una donna che a cui credo venga diagnosticato un disturbo pipolare o comunque qualche altro disturbo e si si getta da non so che piano del suo palazzo e sopravvive all'impatto e quindi avrebbe lasciato indietro marito e figlia in realtà sopravvive e quindi deve tornare a una normalità e racconta questa sua questa sua storia e mi incuriosisce molto in generale Patierno il fatto che chiaramente si basi su documenti veri il film quindi rielabori foto e quant'altro per raccontare questa storia e in generale mi incuriosisce Patierno come figura nel cinema italiano in generale perché adesso lui solo nel 2022 aveva un film che credo fosse un documentario a Roma che si chiamava La Cura a Svegliami a Mezzanotte a Torino ed esce adesso credo nei cinema o in piattaforma non lo so una commedia italiana che si chiama Improvvisamente Natale quindi è riuscito a fare delle cose diversissime e riguarda in generale tutta la sua carriera perché lui ha fatto anche cose con grandi attori c'è quello Cos'è all'altro mondo con Abba Tantuomo mi pare una decina d'anni fa e poi ha fatto anche documentari e credo ce ne sia uno su Napoli Napoli 44 mi pare c'è dentro Benedict Cumberbatch insomma è una figura molto strana io avevo visto il mattino a loro in bocca nel senso mi incuriosisce perché in Italia esattamente come Moroni che era anomalo in un altro modo probabilmente Patirno è anche più anomalo perché inseditissimo nell'industria cinematografica italiana allo stesso tempo si concede questo tipo di film quindi interessante trovarlo in questa lezione che evidentemente ha messo assieme autori parecchio laterali del cinema italiano e che però si sono e tutto sommato si sono anche imposti fra gli esploratori del cinema italiano d'avanguardia Viscogliosi e Magnonet mi scordo sbaglio sempre il cognome francese di François Magnonet comunque sono due registi di videoarte in pratica Luca Ferri è un videoartista Spina pure Spina e Mazzone sono videoartisti quindi in generale mi accorgo che in questa selezione c'è proprio un tentativo di far coincidere un pochino i registi italiani che sperimentano però allo stesso tempo sono in qualche modo già si stanno istituzionalizzando magari non che so non Santa Belva magari però comunque sono tutti piuttosto inseriti nell'ambito è curioso è curioso secondo me Patierno è una sintesi perfetta perché più in bilico fra le due cose di lui credo non ci siano in questa selezione sì 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 no 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 concordo no una selezione una selezione interessante secondo me il termine laterale che ho utilizzato è perfettamente calzante per definire per definire degli autori che si stanno istituzionalizzando ma non si sono ancora istituiti o costituiti all'interno all'interno del doc italiano quindi la trovo una definizione perfettamente perfettamente calzante tra l'altro intervengo per intervengo per voler fare qualche errata corrige sul mio intervento su Foga dei Passi la prima parte la prima parte del film cioè è di Resurrection Resurrection Plant e poi dopo c'è Apolidi quindi quindi sì aveva senso sono usciti anche anche a distanza almeno a laterale sono arrivati a distanza di un anno l'uno dall'altro si intuiva già da lì comunque che si trattava di Covid ma comunque cioè di film sul Covid di cinema sul Covid sì perché poi in realtà il film cioè il film Foga dei Passi è anche interessante perché è difficile da definire cioè in alcuni frangenti non so se per una questione proprio di di empatia con quel periodo ok ma cioè diventa un horror a tutti gli effetti rivivere cioè rivivere quelle fasi lì di di storia però vabbè al di là di cioè al di là di queste che sono considerazioni personali è una sezione che presenta senza alcun dubbio delle sorprese e anche le sorprese meno sorprese meritano di essere viste senz'altro grazie a tutti Grazie a tutti.